Sei tornato a Sassuolo, subito titolare, non amichevole, però subito il primo gol, quali sono le tue sensazioni? Ciao, buonasera, veramente sono molto contento di essere tornato e spero dare il mio contributo in ogni allenamento e poi se rimango in ogni partita, in ogni cosa che posso fare darò il mio contributo. Quali sono le prime indicazioni di Mr. Grosso? Eh niente, le prime indicazioni di lui è essere noi, giocare tranquillamente, essere liberi, veramente non avere paura di niente, essere padrone del gioco. E che gruppo sta nascendo? Perché voi ora veramente è un cantiere aperto, è un sassuolo, ci sono tanti ragazzi, però intanto questa prima settimana di ritiro come è andata? Secondo me è stata una settimana molto positiva per tutti noi, stiamo cercando di creare una famiglia, un gruppo vero e per poi andare al campionato a cercare di vincere. Quanto ti sono serviti gli anni aperto, in cui sei cresciuto? Secondo me mi sono serviti molto per crecere prima come persona e poi come calciatore. E c'è l'ultima, se c'è il mercato aperto, tu avresti questa sassuola? Quello ancora non lo so, penso che sia presto, ma comunque mi sto allenando bene e ho tutta la disposizione, tutto il compromesso, se devo restare, rimango con amore, rimango con voglia, rimango con fama. Grazie. Grazie.